Altra mostra, dopo le tappe di Napoli e Milano, arriva a Roma carosello, non è vero che tutto fa broto, 1957-1977. Alla Galleria Colonna, fino al 22 giugno, con una selva di monitor, un'ampia scelta di manifesti e gigantografie, la mostra racconta la storia di uno degli elementi più caratteristici della storia della televisione in Italia. Per 20 anni, infatti, l'insieme di brevi filmati pubblicitari, che costituirono per molto tempo l'unica pubblicità in TV, fu il programma più seguito, 19 milioni di telespettatori quando si decise di eliminarlo, un fatto rilevante del costume familiare e una risorsa importante per il mondo dello spettacolo.